Un aumento complessivo dei reati, la cui natura cambia se si confrontano gli anni pre-pandemia a quelli della pandemia. Il consuntivo della Direzione Centrale della Polizia Criminale racconta così il 2022. Gli omicidi sono 309 in tutto, in aumento del 3% rispetto all'anno prima. Una curva precedentemente in flessione da ben 15 anni. Nel 1990 erano 3000 l'anno. 100 sono le donne uccise in ambito familiare o affettivo, 59 per mano del partner, dato che decresce rispetto all'anno prima. Calano anche i reati di stalking, aumentano invece di quasi il 16% le violenze sessuali. Un numero particolarmente significativo è l'incremento dei reati commessi da minori. Rispetto al 2019, l'anno che precede la pandemia, sono oltre il 14% in più i minorenni arrestati, con una crescita esponenziale per alcuni tipi di reati, più 35,3% per gli omicidi volontari e più 75% per le rapine. Furti e rapine registrano un incremento generale, rispettivamente del 20% e del 18% rispetto all'anno scorso. Eppure l'Italia appare ancora uno dei paesi più sicuri in Europa. Se si confronta ad esempio il numero di omicidi per 100.000 abitanti, siamo terzultimi, seguiti da Norvegia e Svizzera. Roma e Milano hanno fatto registrare 26 e 19 delitti contro i 179 di Bruxelles e i 100 di Parigi, a fronte di una popolazione molto meno numerosa nelle due capitali europee. Due truffe su tre avvengono online e sulle piattaforme digitali. Luogo virtuale ma molto concreto, dove opera sempre di più anche la criminalità organizzata. Così le mafie assumono una dimensione sempre più immateriale, ma globale e transnazionale. Grazie al lavoro del servizio di cooperazione internazionale sono stati catturati 1.369 latitanti in 64 paesi diversi, 26 in più del 2021. Romania, Spagna, Germania, Francia, i paesi dove abbiamo rintracciato di più i criminali ricercati dalle nostre forze dell'ordine. E all'estero vanno più spesso anche i capitali. Seguire il denaro, una vecchia regola, è questa oggi la prima strada della lotta alla criminalità organizzata. Grazie agli strumenti di tracciamento, anche perché, segnalano i dati del Viminale, la sfera di azione privilegiata delle mafie sono ormai i crimini finanziari. Grazie. 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 Grazie a tutti.